Gentili telespettatori, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di incontro con nostra gradita ospite quest'oggi in studio, Antonella Schena, presidente di Promo Falcade. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, grazie dell'invito. Dunque, vogliamo partire un po' con la descrizione di cos'è Promo Falcade e chi è, diciamo così, in questo immaginiamo consorzio oppure ente di promozione del territorio. Promo Falcade è appunto l'ente che si occupa della promozione turistica della Valle del Biois, quindi non solamente di Falcade ma anche di Canale d'Acordo, Vallada Gordina e Sant'Omaso a Gordino. Siamo nati da poco, siamo nati nel luglio proprio successivo al lockdown, quindi abbiamo già avuto un inizio abbastanza rocambolesco, però abbiamo voluto appunto crederci e far nascere questo nuovo ente perché a Falcade negli ultimi anni mancava un soggetto che si occupasse della promozione turistica del territorio e quindi proprio partendo dal basso gli operatori turistici hanno voluto mettersi insieme per creare questo ufficio che è aperto per tutti quanti, per tutti quelli che sono interessati al turismo in Valle del Biois. Infatti è stato fondato da quattro soci, l'associazione Albergatori, la scuola sci Falcade, la scuola sci Equip e la società Impianti. Questi quattro soci hanno creato la promozione Falcade a maggio, questo è successo il 5 maggio e il primo luglio siamo partiti con l'ufficio che è posto presso il municipio di Falcade, ci è stato concesso appunto dall'amministrazione comunale di Falcade e abbiamo assunto una persona che possa seguire l'ufficio che è Fiorenza Manfroy, che è molto valida, avendo avuto anche molti anni di esperienza presso dell'Omiti Stars e con il suo grande bagaglio di conoscenze ci dà veramente una grande mano per portare avanti tutti i progetti perché sono veramente tanti. Abbiamo visto che questo ente di promozione turistica era assolutamente necessario perché di giorno in giorno si aumentano sempre di più i progetti da seguire, le cose da fare, siamo contenti del lavoro che stiamo facendo anche grazie appunto a Fiorenza che ci sta seguendo tutto questo. È significativo il fatto, Schiena, che abbiate voluto coinvolgere anche gli altri paesi perché Falcade ha chiaramente un nome, un'attrattività turistica importante, però anche gli altri paesi possono dare qualche cosa. Hanno aderito quindi con favore a questo vostro progetto? Lì coinvolgete anche nella promozione del territorio? Assolutamente sì, anche perché appunto Falcade è il nome perché è la località più conosciuta. C'è stato molto all'inizio il dubbio se chiamarlo Promo Valbiois o Promo Falcade. Abbiamo scelto Promo Falcade perché Falcade è un marchio comunque già conosciuto e quindi si partiva già da uno scalino più alto. Però ovviamente sì, coinvolgono tutti i paesi della valle perché ognuno ha le sue particolarità, le sue ricchezze e noi come Falcade ci arricchiamo anche per quello che ci dà Canale d'Agordo, Vallata d'Agordina e anche Sant'Omaso perché tutti quanti hanno delle potenzialità molto grandi e che vediamo che in questi anni le stanno sviluppando molto bene. Non è quindi solo un'associazione di albergatori ci sembra di capire, sono coinvolte anche altre categorie economiche che gravitano nel mondo del turismo. In percentuale quanti albergatori sono e quante altre invece differenti attività aderiscono al vostro consorzio? Allora gli albergatori sono una bella fetta, diciamo che fra tutti gli alberghi della Valle del Biois penso che un 90% sia associato a Promo Falcade. Però il bello è appunto che non è un'associazione solamente di albergatori ma ci sono anche tutti i commercianti, i negozi della Valle del Biois, i musei appunto come il museo anche Papa Luciani, le scuole di sci che sono molto importanti, i noleggi, la società impianti che ovviamente è una parte importantissima del comparto turistico della Valle del Biois. Tutti insieme ci siamo messi appunto in sinergia per creare qualcosa per la Valle del Biois e vedo che questa cosa funziona soprattutto perché si fa rete, ci si interfaccia anche con le altre realtà turistiche della Valle e quindi facendo così ci si conosce e si riesce a fare anche qualcosa di più. Il vostro rapporto con DMO vi interfacciate, affidate a loro la promozione oppure la fate voi direttamente la promozione turistica del territorio? Assolutamente c'è uno scambio continuo con la DMO. Diciamo che la DMO ci dà le indicazioni anche appunto a livello di marketing, anche grazie allo studio del brand che è stato fatto da poco dalla provincia di Belluno. Poi la promozione vera e propria poi la facciamo noi perché andiamo comunque alle fiere anche grazie alla Regione Veneto che ci permette di partecipare a queste fiere quindi andiamo sia all'Italia che all'estero, però molte volte andiamo anche con altri consorzi della DMO perché c'è una sinergia anche a livello provinciale. Ecco ci sono diverse realtà interessanti del territorio anche negli altri paesi, non soltanto Falcade, penso a Canale d'Agordo con il Museo Papaluciani piuttosto che Sant'Omaso con la sua verticale. Ecco, come strutturate questa promozione? Voglio dire, la incentrate come consorzio generale oppure differenziandola di paese in paese? No, no, noi vendiamo il territorio come fosse tutto unico. C'è però una bella collaborazione con gli altri paesi, nello specifico esempio Canale d'Agordo con la Fondazione Papaluciani che è molto attiva a livello di promozione turistica. L'anno scorso ha avuto la beatificazione del Papa e quindi ha avuto un lavoro enorme e quest'anno vedo che sta portando i suoi frutti perché hanno molti gruppi che vengono a visitare il paese dei papaluciani e quindi di conseguenza anche la Valle del Biois e un'altra trattativa molto grande di Canale d'Agordo è la Valle di Garesse che è una meraviglia a livello naturalistico. Quindi appunto grazie anche alla collaborazione con la Fondazione riusciamo a coinvolgere Canale d'Agordo e anche Vallada Gordina perché la Fondazione si occupa anche della chiesa di San Simon che è un altro gioiello della Valle del Biois che assolutamente va valorizzato. Schiena, oramai non manca molto all'inizio della stagione estiva nel mese di maggio e quindi gli alberghi della Valle del Biois, le strutture ricettive e soprattutto gli eventi come saranno impostati attraverso Promo Falcade? Voi coordinate tutti tutti gli eventi, date un calendario diciamo così per evitare magari sovrapposizioni, è un calendario ricco, ce ne può parlare? Sì, diciamo che questo si fa in collaborazione con la Proloco di Caviola che si occupa in uno specifico degli eventi e coordina appunto quelli che sono gli appuntamenti in Valle del Biois. Devo dire che anche quest'anno c'è un ricco calendario estivo, di solito il primo appuntamento, quello più importante di inizio estate è il dell'ansuda che è la festa di primavera che si tiene sulla Piana di Falcade. Quest'anno sarà il 17 e il 18 di giugno, è la quinta edizione e di anno in anno vediamo sempre crescere di più questa manifestazione che è proprio dedicata a quello che è la natura in Valle del Biois, la primavera perché l'ansuda è appunto la primavera. A livello dolomitico spiega quali sono le erbe spontanee che crescono nei nostri prati, come utilizzarle sia in cucina che nel benessere, nella Cosmesi e poi comunque ci sono passeggiate accompagnate con degli esperti di natura, con dei geologi e quindi parla a 360 gradi di quella che è la vita all'aria aperta nelle dolomiti e vedo che questo è un buon riscontro anche fra i turisti ma anche fra i valigiani perché c'è questa voglia appunto di vivere quello che è l'aria aperta. E di conoscere anche che cosa c'è all'aria aperta, perché va bene le passeggiate, abbiamo un bellissimo ambiente naturale, però appunto anche la scoperta del conoscere le erbe, le piante. A questo proposito ci sono altre iniziative all'aria aperta che avete in programma per il periodo estivo a Schiena? Sì, quest'anno ci sono due belle novità, tutte e due alle Buse che è la località che si trova all'arrivo della cabinovia appunto di Falcade, la Molino alle Buse. C'è già un parco dedicato alle formiche, quest'anno sarà implementato grazie anche alla sinergia con il Museo delle Scienze di Trento. Tutte le settimane ci saranno delle visite accompagnate da un accompagnatore di Media Montagna e da un ricercatore del Museo di Trento che spiegherà questo affascinante mondo delle formiche e ci saranno anche dei giochi interattivi per i bambini per coinvolgere anche le famiglie. E poi sempre alle Buse ci saranno due appuntamenti musicali, il sabato mattina, in questo bellissimo spazio all'aria aperta circondati dagli alberi sarà il palco per delle orchestre che si esibiranno per dei concerti. Ah però, nella sua lunga esperienza di albergatrice a Falcade, lei nota una differenza nel corso degli anni, cioè prima dell'avvento di Provo Falcade e dopo l'avvento di Provo Falcade nel gradimento dei turisti, perché voglio dire questo coordinamento è apprezzato da chi viene ospite, per esempio nel suo albergo piuttosto che in altre strutture della valle. Sì, abbiamo visto in questi anni che il lavoro fatto, anche se in pochi anni, perché pochi anni che è nato Provo Falcade, sta già dando i suoi frutti e questo ci dà soddisfazione e anche voglia di continuare. Sarà anche che siamo nati proprio in un periodo, penso, epocale, perché nel pieno della pandemia è nata dal Consorzio Turistico, abbiamo dovuto stravolgere tutti quanti il nostro modo di lavorare. Veramente fra il prima e il dopo è cambiato veramente tanto, anche nel modo dei turisti di approcciarsi. Abbiamo seguito quelle che sono anche le richieste dei turisti, appunto più voglia di aria aperta, più voglia anche di un turismo un po' più lento e quindi abbiamo visto che questa cosa è vincente e la stiamo seguendo e sia d'inverno che d'estate abbiamo visto anche un aumento delle presenze turistiche. Ecco, lei ha sottolineato un turismo più lento, ma la tendenza, mi pare, negli ultimi anni fossero di soggiorni un po' più brevi, diciamo così, il turismo mordi e fuggi del fine settimana oppure qualche giorno in più. C'è un cambio di tendenza grazie a questa svolta epocale dovuta alla pandemia, come sottolineava lei? Cioè i turisti richiedono più giorni, richiedono più, diciamo così, eventi all'aria aperta? Ma forse nel periodo di vacanza si resta sempre magari su mediamente 4-5 giorni, una settimana, però forse anche ripetuta, ma vengono anche più volte. Gli eventi all'aria aperta sicuramente sono quelli più vincenti, sono molto apprezzati. Senta, una stagione estiva, si parla molto di destagionalizzazione, allungare il più possibile le stagioni per ridurre chiaramente i periodi, chiama tra virgolette, morti. Voi vi adoperate anche per questo? È una strategia che ritenete vincente, magari in collaborazione? Perché come ha sottolineato lei, nel vostro consorzio ci sono anche gli impianti di risalita, quindi la schiara San Pellegrino è una cosa su cui state lavorando, ritenete comunque? Ad esempio quest'anno la schiara San Pellegrino ha allungato il periodo di apertura fino a Pasqua, che quest'anno era il 10 aprile, quindi ha creduto anche in questo sviluppo del turismo anche in una stagione comunque ad aprile, che di solito è di bassa stagione, visto che è stata premiata anche per questa scelta. Invece a livello estivo, appunto queste due eventi che facciamo, il Bond dell'Ansuda a giugno e il Sede del Montegria, che quest'anno cadrà fra settembre e ottobre, ci insegna che comunque i turisti sono interessati a venire anche nei periodi non di punta, che sono luglio-agosto, ma vivere la montagna anche in altre stagioni. Perché allungamento della stagione significa però far trovare i servizi al turista, va bene gli alberghi aperti, gli eventi, però logicamente se ci sono anche i negozi, i ristoranti aperti, chiaramente c'è un maggior gradimento nel territorio quando si è in vacanza. Ecco, allora Promo Falcade può essere lo strumento giusto per questo, un coordinamento generale per evitare che ci siano sì gli impianti aperti, ma magari soltanto uno o due alberghi contestualmente aperti. Sì, infatti il Promo Falcade è un tavolo appunto di coordinamento e di confronto fra tutti gli operatori turistici, questo forse è il ruolo più importante che ha Promo Falcade, oltre alla promozione mancava un punto di riferimento per gli operatori turistici per confrontarsi. Ecco, c'è un progetto in particolare su cui state lavorando, abbiamo parlato degli eventi estivi, ma un progetto magari corposo o che comunque può essere sviluppato anche per le prossime stagioni a livello di promozione a schiena. Noi stiamo lavorando con la provincia di Belluno e con la regione Veneto, perché ci hanno messo a disposizione dei bandi appunto per la promozione turistica, anche in rete, infatti abbiamo creato questa rete insieme alle nostre imprese, quindi ai nostri rifugi, ai nostri alberghi, e grazie a questo riusciamo a fare della promozione sia in Italia che all'estero. Poi invece a livello di servizi, l'attuale amministrazione di Falcade ha investito una buona parte dei fondi di confine appunto per lo sviluppo turistico di Falcade, e quindi sono previsti delle novità come il campo di paddle, un percorso sugli alberi per i bambini, delle piste per la mountain bike in quota, e quindi anche queste sono novità che il turista apprezza. Ci sono dei mercati esteri su cui puntate maggiormente? Un turismo in via di sviluppo dove secondo voi può essere opportuno concentrare la vostra azione di promozione? Noi storicamente andiamo a fare le fiere nei paesi dell'est, soprattutto la Polonia oppure anche la Repubblica Ceca, da poco siamo stati anche in Romania, non eravamo mai stati, quindi un mercato nuovo. L'anno scorso siamo stati in Belgio e da pochissimo Fiorenza Manfroy è tornata dalla fiera che si è tenuta a Londra. E quindi abbiamo visto che le zone dove noi andiamo a fare le fiere poi danno dei risultati, perché anche quest'inverno abbiamo visto delle importanti presenze appunto dei mercati dell'est, ma anche del Regno Unito e dei Paesi Bassi. Puntate anche sull'appuntamento olimpico nella vostra promozione del territorio della Valle del Biois, cioè agganciare anche alla Valle del Biois l'appuntamento olimpico, è una strategia vincente, specie con riferimento al mercato estero? Sì, sicuramente è un'occasione da non perdere. La Valle del Biois è un po' più decentrata rispetto a Cortina, però penso che con l'appuntamento che ci sarà in Val di Fiemme per quel che riguarda lo sci nordico ci possa essere un buon compromesso, perché la pista di fondo di Falcade è una pista molto bella, tu lo sai perché la frequenti spesso, e ha tutte le caratteristiche per poter essere anche campo di allenamento per delle squadre. Quindi noi veramente speriamo che possa essere così, dopo tutto lo sci club Val Biois che ha in concessione le piste di fondo sta facendo un ottimo lavoro anche di promozione, ma anche di mantenimento della pista, che penso possa essere un fiore dell'occhiello anche in vista delle Olimpiadi. Un'ultima domanda, il turismo della bicicletta, abbiamo parlato quindi di grandi eventi, è un punto su cui puntare molto sulla stagione estiva? Sì, la Sutta di Impianti e l'amministrazione di Falcade ci stanno credendo molto con lo sviluppo delle piste di biciclette, di mountain bike, che già ci sono già, però le vogliono ampliare per portare i ciclisti anche ad alta quota. La ringraziamo molto Antonella Schiena, abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione, auguriamo buon lavoro a lei e a tutto lo staff di Promo Falcade. Grazie Antonella Schiena e grazie a voi tutti per la gentile visione e arrivederci al prossimo appuntamento di Incontro Con.